Ciao a tutti ragazzi, benti qui da Visto Pagame Oggi andiamo a dare soprattutto il marcatore probabile di questa giornata di Serie A Non abbiamo inserito l'Inter contro la Sanitana perché ha giocato ieri E poi perché era una partita soprattutto scontata Dove i marcatori probabili, come avete visto, è stato soprattutto l'Auto Martínez Con una tripletta e una doppietta di Dzeko Una grande partita vinta dall'Inter, ma non ci mettiamo in chiacchie Prima di dare soprattutto il marcatore probabile di qualsiasi partita di questa giornata di Serie A Vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciate un like e attivate la campanellina per stagionare i suoi miei contenuti Iniziamo con la prima partita che si giocherà oggi alle 3 tra Udinese e Sampdoria Il marcatore probabile secondo me in questa partita è il signor De Lofeo Un giocatore che trova soprattutto tante chance per mettere la palla sempre dentro la rete E secondo me in coppia con Beto farà bene in questa partita e sarà il marcatore probabile Andiamo con Roma-Atalanta, un'altra partita delicata dove la Roma, soprattutto in casa, deve riscattarsi Ma anche Atalanta va alla ricerca di punti che danno soprattutto una scossa alla squadra Soprattutto in classifica, quindi partita delicata Ma il marcatore probabile che secondo me sarà una sorpresa in questa partita è proprio Boga Un giocatore che deve addire ancora la sua in questa squadra Non ha trovato tanto spazio, non l'ho visto tanto esprimersi al meglio Quindi il marcatore probabile di questa partita è il proprio signor Boga Andiamo con Cagliere Lazio, in Cagliere Lazio secondo me il marcatore probabile è il brasiliano Gio Pedro Che secondo me la metterà dentro in questa partita L'ho visto sempre esprimere al meglio le proprie qualità quando gioca contro Lazio Vedo sempre un altro giocatore Quindi secondo me il marcatore probabile di questa partita è proprio il signor Gio Pedro Andiamo con Geno Empoli Geno Empoli è una partita un po' dove le due squadre hanno bisogno dei punti Ma il signor Mattia Destro in questa partita darà la sua mano soprattutto come realizzazione di gol E quindi il marcatore probabile di questa partita è proprio il signor Mattia Destro Andiamo con Bologna Torino Bologna Torino come abbiamo visto nelle scorse giornate abbiamo visto un giocatore che ormai è una bandiera del Torino Se ritornare al gol quindi secondo me il marcatore probabile di questa partita è proprio il signor Andrea Velotti Andiamo con Fiorentina Verona Fiorentina Verona Partita Sarà secondo me una grande partita Dove si vedrà giocare un gran calcio E secondo me il marcatore probabile di questa partita è il signor González Andiamo con Venezia Sassuolo Il marcatore probabile lo dico subito in questa partita scontatissimo è Scamacca Che secondo me in questa partita la metterà dentro Metterà soprattutto il pallone dentro e grazie al suo gol porterà la vittoria soprattutto alla sua squadra Andiamo con Juventus Spezia Juventus Spezia come marcatore probabile scontato è Dusan Vlaovic Che anche in questa partita andrà a segno e quindi porterà su un altro gol nella classifica marcatori E quindi il marcatore probabile è Vlaovic Andiamo con Napoli-Milan Napoli-Milan ci sarà secondo me una sorpresa con il marcatore probabile E la sorpresa è Brian Diaz Giocatore che è da tanto tempo che non vediamo segnale Quindi secondo me metterà anche lui il pallone dentro la rete Bene ragazzi fatevi sapere ai prossimi commenti Cosa ne pensate soprattutto di questo marcatore probabile E datemi soprattutto i vostri pronostici I vostri marcatori probabili E nel prossimo video se indovinerete soprattutto il marcatore probabile Se la maggior parte dei marcatori probabili che avete praticato Li avete soprattutto indovinati Vi metterò tutto e vi inserirò nel prossimo video E nominerò anche il vostro nome Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un like E attraverso i commenti scrivete i vostri marcatori probabili Edite la vostra su quanto riguarda soprattutto i miei marcatori probabili Bella ragazzi ci vediamo alla prossima